Dal rapporto Salva Fratino 2018 elaborato da AMP del Cerrano e WWF emerge che nel 2018 sui 110 km di costa abruzzese sono stati censiti 29 nidi, molti dei quali in aree esterne a quelle protette Cerrano e Borsacchio. Il 2018 da questo punto di vista infatti è stato un anno anomalo per Fratino. Sui 29 nidi censiti con un totale di 88 uova deposte sono stati 38 i nuovi nati, con un crollo verticale soprattutto nella costa meridionale abruzzese dal fiume area Lingiu. Per la prima volta quest'anno siamo riusciti a coordinare un progetto a livello regionale per avere più dati possibili circa la rindificazione e cercare di tutelare e sorvegliare i nidi. Purtroppo i risultati non sono stati entusiasmanti in quanto abbiamo avuto un calo di nidificazioni rispetto agli altri anni. Questo per cause naturali come il clima o la predazione ma anche per cause umane. Nel corso della conferenza stampa presso la direzione marittima di Pescara sono state esposte anche le attività di tutela che saranno messe in campo nel breve periodo. Io ritengo che sia un risultato dovuto alla congiuntura di quest'anno però siccome sta crescendo molto l'attenzione, la sensibilità dell'opinione pubblica io penso che andremo sempre di più a migliorare e a raccogliere i frutti di un'attività di sensibilizzazione che viene fatta a partire dai ragazzi delle scuole con l'attività di educazione ambientale che facciamo presso Torre Cerrano. Da tener conto che stiamo lavorando appunto con l'area marina protetta per fornire la massima tutela. Quello che preoccupa è stato detto sono gli atti vandalici. Questi sì, diciamo alcuni atti vandalici, alcuni anche magari portati in maniera anche inconsapevolmente e per questo dobbiamo tenere alta un attimo l'attenzione.